Respinge tutte le accuse Gerardo Ciucci, il 19enne arrestato per aver sparato al rapper di Serino la settimana scorsa. Il giovane davanti al GIP Sicuranza per l'interrogatorio di garanzia ha smontato la ricostruzione dell'accusa, sostenendo che l'aggressione invece l'avrebbe subita da parte della vittima e lui avrebbe reagito. Anche sull'arma Ciucci avrebbe smentito la ricostruzione della procura, dicendo che non avrebbe mai puntato la pistola alla testa e il colpo sarebbe partito per sbaglio. Quindi ora toccherà al perito della procura Alessandro Lima ricostruire l'accaduto. Intanto i carabinieri continuano a indagare, sono stati emessi altri sette provvedimenti nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nella rissa avvenuta a Contrada la settimana scorsa. Sono tutti ragazzi del posto, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, devono rispondere del reato di lesioni aggravate in concorso materiale e morale. I provvedimenti della procura sono arrivate a seguito di dichiarazioni e testimonianze raccolte la sera del 9 gennaio. A Ciucci, assistito dagli avvocati Ettore Frede ed Edoardo Fiore, sono contestati i reati di lesioni personali aggravate, porto abusivo di pistola e spari in luogo pubblico. E per Federico, il rapper di Serino, assai conosciuto come Tsunami, domenica scorsa è stato esposto in campo dalla sua squadra di calcio, l'AS di Serino, uno striscione per incoraggiarlo. Per domani mattina, invece, è in programma una manifestazione ad Avellino, promossa dal comitato spontaneo studentesco Amici di Federico Petrone. Il ritrovo è nel piazzale antistante l'Istituto Amabile di via Morelle e Silvati e seguirà il corteo fino a via esposito all'altezza del Morellis Bar.